Ciao ragazzi, oggi risolviamo questo problema che mi è stato proposto da una mia collega e lo risolviamo insieme utilizzando alcune proprietà fondamentali dei triangoli rettangoli e dei quadrilateri circoscritti ad una circonferenza. Questo esercizio è stato tratto da un libro di testo che noi non conosciamo. Per tale motivo leggeremo con attenzione la traccia e cercheremo di utilizzare tutte le conoscenze che abbiamo a portata di mano. Determinare il raggio del cerchio iscritto e l'area di un trapezzo isoscele avente gli angoli alla base di 60 gradi e il lato obliquo di centimetri 8. Ci viene poi dato un suggerimento. Se osservi la figura, una possibile risoluzione consiste nel cominciare a trovare prima gli angoli e poi i lati del triangolo A o B. Come dicevo appunto prima, ciascun problema di geometria trova diverse strade di risoluzione per cui noi potremmo prendere in considerazione solo parte del suggerimento che ci viene fornito come ad esempio quello di andare a considerare prima l'ampiezza degli angoli dei triangoli rettangoli. Ebbene, all'interno di questo trapezzo possiamo costruire diversi triangoli rettangoli. Noi non ci soffermeremo sul triangolo A o B, ma andremo a considerare un triangolo rettangolo che si viene a formare per mezzo del lato obliquo del trapezzo isoscele e dell'ulteriore altezza che andremo a rappresentare all'interno del trapezio in quanto qui un'altezza già c'è ed è il diametro della circonferenza iscritta in questo trapezio. Questo triangolo di cui vi parlavo lo andremo a costruire nella metà più libera da segmenti del nostro trapezzo isoscele e ovviamente come sempre per poter richiamare questo triangolo avremo bisogno di dare un nome ai vertici per cui lo chiameremo CDE. A questo punto andremo a calcolare l'ampiezza degli angoli di questo triangolo per cui abbiamo già l'ampiezza dell'angolo CDE poi sappiamo l'ampiezza dell'angolo in E in quanto è di 90 gradi nel momento che c'è l'altezza del traverso isoscele e siccome la somma degli angoli interni di un triangolo è pari a 180 gradi per differenza avremo che l'angolo in C misura 30 gradi. Di questo triangolo CDE conosciamo sicuramente la misura dell'ipotenusa che coincide con il lato obliquo del trapezio isoscele conosciamo l'ampiezza degli angoli e ci manca la misura dei cateti di questo triangolo in particolar modo CE coincide con il diametro della circonferenza e siccome noi dobbiamo calcolare la misura del raggio della circonferenza sapendo che CE misura quanto il diametro una volta che l'avremo calcolato dividendolo a metà avremo la misura del raggio Per calcolare la misura di CE certamente non potremo utilizzare il teorema di Pitagora perché abbiamo a disposizione soltanto una misura che è quella dell'ipotenusa del triangolo rettangolo però questo triangolo è speciale dal momento che i suoi angoli hanno ampiezza 90, 60 e 30 gradi quindi potremo sfruttare una proprietà fondamentale dei triangoli rettangoli con questi angoli Allora che cosa facciamo? Andiamo a disegnare di nuovo il triangolo CDE però notate bene che stavolta risulta ruotato di 180 gradi e che cosa facciamo a questo triangolo? Lo completiamo con un triangolo uguale, congruente a quello di partenza e lo mettiamo proprio accanto al triangolo che abbiamo appena disegnato Disegnato questo triangolo e vedendo l'unione di questi due triangoli riusciamo a vedere un triangolo più grande, FCD che risulta essere equilatero dal momento che sia in F che in D che in C c'è un angolo da 60 gradi infatti in C dalla somma di 30 più 30 ne deriva 60 gradi Questo triangolo equilatero ci dimostra che ED risulta essere la metà del lato CD e del lato CF Infatti FD misura 8 cm e di conseguenza FE ed ED misurano 4 cm Chiaramente tutto questo è possibile proprio perché abbiamo costruito un triangolo C e F che è congruente a C e D Ricapitolando, in un triangolo rettangolo di angoli di ampiezza 60, 90 e 30 gradi l'ipotenusa risulta essere il doppio rispetto al cateto che è di fronte all'angolo di 30 gradi Di conseguenza DE misura 4 cm per come abbiamo appena dimostrato Solo adesso, grazie al teorema di Pitagora riusciremo a calcolare la misura di CE Dato che 48 non è un quadrato perfetto potremo approssimare la radice quadrata al numero 6,93 Adesso, dato che CE coincide con il diametro della nostra circonferenza volendo conoscere il raggio divideremo CE o equivalentemente 6,93 per 2 Adesso andiamo a calcolare l'area del trapezio per cui ci servirà la formula base maggiore più base minore per altezza fratto 2 Per calcolare l'area del trapezio ci servirà la misura della base minore della base maggiore l'altezza la conosciamo già e poi divideremo tutto per due Quello che appunto ci manca è la somma delle basi E allora come fare per poterla calcolare? Ebbene, in questo caso entra in gioco la proprietà che contraddistingue quei trapezzi che sono circoscritti ad una circonferenza Denuncio la seguente proprietà Un quadrilatero è circoscrivibile ad una circonferenza se e soltanto se la somma dei due lati opposti è congruente alla somma degli altri due per cui la somma dei due lati obliqui che conosciamo ed è 8 deve essere uguale alla somma delle due basi Di conseguenza conoscendo la somma di CD e di BA che misura 16 dal momento che la somma di due lati congruenti fra loro e che misurano 8 allora conosceremo anche la somma delle basi che coincide con 16 In questo caso non ci importa conoscere quanto misura singolarmente una base di questo trapezio perché all'interno della formula dell'area del trapezio compare la somma di questi due Andiamo pertanto a sostituire i risultati che abbiamo ottenuto e otteniamo che l'area del trapezio esoscere misura circa 55,42 cm2 La spiegazione è terminata Se vi è piaciuta potete lasciare un mi piace sotto il video altrimenti potete iscrivervi al mio canale Inoltre se avete dei dubbi riguardo a questa spiegazione o qualunque altra potete inviarmi gli esercizi in privato che se avrò tempo riuscirò a fare un video anche per voi Buona serata Grazie